Buongiorno, buongiorno fecanieri, buongiorno a tutti, video pronosti, vi dico come secondo me finiscono le partite, le analizziamo, vediamo i contenuti tecnico-tattici più interessanti e vi vado anche a dire le partite che commento nel fine settimana, così avete già la vostra scaletta diciamo e questo non vi crea scompensi cerebrali, cardiaci, insomma così sapete già cosa aspettarvi, ve lo segnate, vi attivate il campanacce di conseguenza e siamo tutti più contenti. Allora non commento ovviamente e non do il pronostico di Brescia-Napoli perché quando sto facendo il video la partita deve ancora giocarsi, io non lo so perché sto facendo il video prima ma domattina cioè sabato oggi lo sapremo tutti, fatta questa parentesi un po' in stile Inception barra John Titor andiamo con le partite successive. Bologna-Udinese. Bologna-Udinese è una bella partita, diciamo il derby delle autostrade, lo ridefinisco così. Bologna-Udinese io qui metterei un 1 perché il Bologna secondo me in casa sarà galvanizzata, l'Udinese magari gioca anche bene, fa un buon gioco però vedo che il Bologna quando c'è da macinare punti li macina anche abbastanza volentieri, è un po' discontinua però secondo me in casa con l'Udinese il Bologna può vincere quindi metto 1. Spal-Juve, Spal-Juve qui io metterei 2 ok perché penso che la Juve a Spal non possa far altro che vincere nel senso che non può permettersi altri risultati per consolidare il primato, Spal-Juve metto 2 anche perché non è che mi convinca molto di Biagio alla Spal quindi metto 2 vediamo come va. Fiorentina-Milan qui vi dico solo il segno perché poi oggi pomeriggio farò un video esclusivamente dedicato a questa partita e metto X. Genoa-Lazio. Genoa-Lazio è una bella partita, meno scontata secondo me di quel che si pensa perché il Genoa è in un ottimo momento di forma è una partita da X2 nel senso che non mi stupirei di una vittoria dalla Lazio a Genova per carità però questo Genoa con Nicola io guardate per la salvezza in molti me l'hanno chiesto ma molte volte ho detto cosa ne penso io continuo a indicare come ho fatto da inizio campionato Brescia, Spal e Lecce come retrocedenti quindi insomma nella mia idea le due genovesi potrebbero salvarsi il Genoa non ha una brutta squadra Nicola sta facendo bene qualche punto se si salva deve pur farlo lo sta anche facendo e Genoa-Lazio metto X metto X anche perché magari la Lazio ok che ha solo una partita settimana però magari con l'Inter ha avuto un certo dispendio quindi Genoa-Lazio metto X ok? e vediamo come va è una partita da X2 diciamo ma io metto X Atalanta-Sassuolo 1 ero tentato dal dire l'Atalanta sarà distratta dalla Champions è una partita che è a metà però voglio dire a parte che il ritorno sarà non immediato col Valencia però io credo che l'Atalanta in casa col Sassuolo vinca quindi metto 1 ok? 1 Verona-Cagliari questo è un bellissimo derby di un'Europa League inaspettata diciamo un po' per entrambi e soprattutto per il Verona oggi chi vince secondo me si va a stabilizzare più il Verona ok? perché se il Cagliari dovesse vincere oggi comunque non lo metterei propriamente al 100% tra le sicurissime pretendenti all'Europa League perché il Cagliari lo aspetto ad aprile così dov'è comunque ad oggi è un derby per l'Europa League possiamo dire questo per l'Europa League e Verona-Cagliari metto 1 voglio credere al Verona voglio credere a questo miracolo diciamo fino in fondo credo che il Verona in casa col Cagliari possa vincere ok? e vedo ovviamente più in salute il Verona che il Cagliari in questo preciso momento del campionato quindi metto 1 Torino-Parma metto X vedo un Parma abbastanza lanciato però il Torino non può neanche perderle tutte è una partita abbastanza da tripla andiamo di via di mezzo metto un pareggio Roma-Lece e anche qui purtroppo per i romanisti diciamo è una partita da tripla perché Lecce gioca gioca benissimo fuori casa perché è una squadra che ha gioco che diciamo anche un gioco gradevole per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche è una squadra che non ha paura che spesso attacca che mette in difficoltà la Roma in Copa UEFA non l'ho vista bene non so neanche se ci sia un rapporto buono tra tutta la trafila tecnica diciamo società allenatore, giocatori non vedo una situazione idilliaca purtroppo alla Roma dico purtroppo perché la Roma quest'anno mi è pangasiale quindi mi spiace un po' di questa cosa anzi l'ho indicata pure come come la mia vincitrice dell'Europa League però insomma Roma-Lece è una partita da tripla e metto pareggio anche qua metto un X Roma-Lece X Inter-Sandoria Inter-Sandoria è una partita non scontata come non scontata potrà essere la formazione dell'Inter perché in Copa Conte ha adottato a partita in corso un 4-3-1-2 per agevolare diciamo il lavoro di Eriksen non so se lo farà dall'inizio in campionato secondo me ma posso sbagliarmi in mia impressione utilizzerà un 3-5-2 dall'inizio con i titolari la Sampdoria vista contro di noi era una squadra che è stata presa poi a pallonate credo che a San Siro voglia un attimo rifarsi credo che andrà a San Siro a chiudersi perché diciamo razionalità impone questo sia perché l'Inter è una squadra nettamente più forte sia perché l'Inter con le squadre che si chiudono in casa a volte va in difficoltà sebbene sia sempre ragionare così e sempre ragionare sul filo di lana perché poi quando hai delle individualità piuttosto forti è una tattica diciamo in cui la fortuna gioca la sua componente però insomma visto che l'Inter ha un po' questa caratteristica qua di sofferenza mi aspetto una Sam che vada a chiudersi ma in ogni caso metto uno Inter-Sampdoria metto uno secondo me l'Inter vince in casa con la Sampdoria non vedo una gara con sì, Sidi e magari sì ma alla fine credo che l'Inter possa assolutamente sfangare sta partita allora vi dico vi riassumo diciamo i segni che ho detto in questo video Bologna-Udinese 1 Spaglio-Ventus 2 Fiorentina-Milan X Genoa-Lazio X Atalanta-Sassuolo 1 Verona-Cagliari 1 Torino-Parma X Roma-Lecce X Inter-Samp 1 ci sono pochi due probabilmente se la partita diciamo fosse stata inserita in questo lotto in questo ensemble di giocate avrei messo il 2 in Brescia-Napoli però ovviamente la partita non si gioca in questo fine settimana e quindi il 2 salta ce n'è solo uno che è quello di Spaglio-Ve vado a dirvi anche le partite che seguirò così sapete diciamo come regolarvi e cosa attendervi allora oggi pomeriggio faccio un video dedicato a Fiorentina il pre-Fiorentina-Milan come da tradizione devo farlo quindi non posso fare il commento di Spal-Juventus perché faccio al pomeriggio il pre-Fiorentina-Milan e poi ovviamente la sera commenterò Fiorentina-Milan subito dopo la fine farò il mio commento quindi attivate tutti i campanacci perché tempo che finisca la partita e dopo poco vi arriva il commento di Fiorentina-Milan Genoa-Lazio non la seguo domenica a mezzogiorno per carità Dio ce ne scampi e ce ne gamberi dalle partite di mezzogiorno credo che seguirò solo quelle della Fiorentina o se capita quelle del Verona ogni tanto Atalanta-Sassuolo non la seguo Verona-Cagliari la seguo quella è alle 15 della domenica quindi alle 17 circa esce il video è anche una bella partita una partita importante insomma che si è rivelata importante per la classifica di entrambe quindi Verona-Cagliari la seguo e la commento a fine gara Torino-Parma non la seguo Roma-Lecce non la seguo seguo invece la sera Inter-Sampdoria e la commento quindi neanche dopo tanto perché il derby lo seguì e seguì anche ovviamente Lazio-Inter ma insomma anche stasettimana faccio il commento all'Inter dopo la Sampdoria e vediamo anche la situazione di classifica che si viene a delineare dopo queste partite insomma dopo la Juve che gioca a Ferrara la Lazio che gioca a Genova e l'Inter che gioca in casa con la Sampdoria è un turno in teoria a favore dell'Inter perché è l'unica a giocare in casa gioca anche con una squadra abbastanza abbordabile le altre due sono in trasferta il compito più difficile secondo me ce l'ha la Lazio in questo fine settimana ma vedremo ditemi cosa ne pensate un caro saluto grazie a tutti